e bella a tutti dal prof come state allora questa sera siccome abbiamo un ospite non facciamo l'appello anche se saluto tutti e abbraccio tutti e invece passiamo direttamente a conoscere chi è il nostro amico di oggi e allora eccolo qua il professor augusto cosentino ciao augusto come stai ciao buonasera buonasera a tutti tutto bene allora io so che augusto è prima di tutto un professore al liceo professore di latino e greco una specie in estinzione o no ce ne sono ancora i professori latino e greco qualcuno c'è anche se liceo classico sta scomparendo in italia ma qualcuno c'è insomma davvero lì come va lì a reggio calabria giusto villa san giovanni esattamente sì sì va abbastanza male diciamo noi abbiamo una sola sezione di liceo nella nostra scuola si ho capito ho capito allora professore cosentino io so che tu ti occupi anche di molte altre cose oltre che che di scuola tanti anni perché sei un ricercatore sei uno studioso e a curriculum hai anche degli studi molto seri in archeologia e in storia delle religioni e ti sei occupato e ti occupi anche di una materia della quale parleremo oggi e cioè dell'ognosticismo della gnosi cristiana diciamo così allora io andrei subito al dunque e ti farei la domanda che tutti in questo momento ci facciamo cioè allora insomma questo gnosticismo che cos'è che cosa intendiamo quando si parla di gnosi è una domanda a cui molto difficile rispondere io studio l'ognosticismo da dal 94 quindi sono parecchi anni 25 anni circa ho iniziato a studiarlo con il compianto professore ugo bianchi che mi ha uso il termine così iniziato all'ognosticismo e dopo tanti anni ancora neanche io ho capito pienamente che cosa sia questo gnosticismo anzitutto gnosi e gnosticismo i due termini sono usati sempre come sinonimi ma io nella lezione proprio del professore bianchi tendo un po a distinguerli cioè gnosticismo come un sottinsieme della gnosi che invece la intendo con qualcosa di più ampio che gnosi è termine greco gnosis è la conoscenza conoscenza in senso lato ma conoscenza in senso anche specifico in senso religioso quindi non una conoscenza razionale come la possiamo intendere noi moderni diciamo postilluministi per capirci ma una conoscenza religiosa quindi una conoscenza rivelata non una conoscenza a cui arrivo attraverso i miei mezzi razionali o i miei mezzi di studio ma una conoscenza rivelata una conoscenza dall'alto e una conoscenza religiosa quindi salvifica non voglio usare il termine soteriologica il termine tecnico una conoscenza che salva e quindi non necessariamente un agnosi passatemi il gioco di parole gnostica quindi un agnosi la possiamo trovare anche in altri ambiti più ampi pensiamo insomma il mondo greco antico ci sono tante forme di iniziazione che salva di un agnosi che salva però poi nello gnosticismo che come giustamente tu hai detto è un gnosticismo cristiano o forse un cristianesimo gnostico e nel nel cristianesimo nasce un agnosticismo specifico quella che qualcuno ha definito una religione gnostica io preferisco spesso parlare di gnosticismi al plurale perché appunto questo fenomeno che è tipico all'interno del cristianesimo che si sviluppa all'interno del cristianesimo è un fenomeno plurale cioè ci sono tanti gruppi che si rifanno a questa gnosi salvifica quindi a questa rivelazione e che quindi si definiscono gnostici pochi forse solo uno di cui ci parla Ireneo di Lione o vengono definiti gnostici tanti di cui ci parlano Ireneo e tutti gli altri specialisti che a un certo punto diventano gli eresiologi cioè coloro che combattono dall'esterno diciamo così o dall'interno questa è un po' problematica questa questione combattono questi gnostici e quindi nasce questa dialettica ma non so pensiamo un clemente alessandrino dice i veri gnostici siamo noi quindi anche lì c'è una posizione altra di alcuni che si definiscono gnostici ma che non sono gnostici nel senso storico religioso come poi lo intendiamo noi ecco questo per introdurre la questione dal punto di vista storico che cos'è quindi questo gnosticismo sostanzialmente ci sono alcuni studiosi di oggi che dicono lo gnosticismo non esiste è una creazione nostra di noi moderni chi come me invece preferisce tratteggiare lo gnosticismo come un fenomeno ben preciso pensa anzitutto ad alcune caratteristiche la prima fra tutte il dualismo dualismo è un fenomeno che noi troviamo anche a livello filosofico esempio si parla di dualismo platonico molto spesso ma in senso storico storico religioso particolare è un un'attribuzione di questa dottrina di due principi della realtà la realtà non ha un solo principio ma ne ha due un principio che è dio è un principio che qualcun altro problema dell'ognosticismo è che vivendo come religione io la riferisco sempre una religione parassitaria quindi vivendo all'interno del cristianesimo e come io ho scritto alcune cose tra cui l'ultimo volume che ho pubblicato non solo all'interno del cristianesimo perché poi l'ognosticismo diventa quasi una categoria del pensiero per certi versi ecco essendo una religione parassitaria non è facile distinguere questo gnosticismo esiste solo una chiesa agnostica chiamiamola così che si svilupperà ad un certo punto come un fatto indipendente che è il manicheismo che però è una cosa una chiesa appunto una struttura anche gerarchica che prende una sua strada indipendente quella cui è appartenuto anche agostino di pona per un certo per un certo tempo appartenuto anche agostino sì 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 anche seppure agostino diventerà poi il più acerrimo avversario del manicheismo nei suoi scritti e manicheismo appunto avrà una storia molto lunga una diffusione anche geografica molto ampia arriverà fino alla cina a diffondersi ma avrà poi una parabola discendente sparirà dalle scene l'ognosticismo invece vive sempre all'interno di altri fenomeni religiosi e quindi va sviluppando questa dottrina che non è così forte così identificabile come quella manichea se quella manichea è appunto un dualismo molto rigido molto forte in cui i due principi sono totalmente contrapposti perché c'è un dio e c'è per certi versi un antidio nell'ognosticismo non è così chiara la cosa però sicuramente nell'ognosticismo c'è un dualismo spesso io lo definisco con un termine verticale più che orizzontale nel senso che c'è un dio superiore che sarebbe per gli gnostici quello che è il vero dio e un dio inferiore quello che nell'ognosticismo con un termine oserei dire rivelatore viene chiamato demiurgo rivelatore perché è un termine platonico di origine platonica usato da platone per definire il creatore del mondo ecco questo demiurgo è un dio inferiore ma secondo gli gnostici è il dio che noi adoriamo che noi tutti che adoriamo quindi gli gnostici poi lo vanno a identificare col dio dell'antico testamento per intenderci però non è il vero dio non è il sommo dio quel dio superiore inconoscibile nascosto padre o primo padre lo chiamano con tanti nomi o abisso eccetera che nascosto appunto ai più è il vero dio ed è nascosto ai più per un fatto non solo appunto conoscitivo diciamo così gnoseologico dicono gli specialisti quanto per un fatto ontologico perché questo dio superiore è stato in origine diciamo in una fase precedente alla storia è stato oggetto di una crisi al suo interno e questa crisi ha provocato una caduta di una parte del divino nel cosmo questo divino che è prigioniero all'interno del cosmo questa scintilla divina che prigione c'è una specie di peccato originale in dio qualcosa del genere si distingue dal peccato originale proprio perché il peccato originale è nella storia umana e nella storia umana mentre questa viene chiamata preferibilmente una colpa primordiale una sorta di colpa è molto problematico questo perché attribuire una colpa a dio può essere blasfemo ecco perché i sistemi gnostici spesso sono dei sistemi qui usiamo un termine tipico della tradizione greca emanazionistici cioè il divino si va degradando via via quindi è tutto compatto il concetto sostanzialmente neoplatonico dicono dell'uno e del molteplice è tutto compatto ma è anche differenziato al suo interno e questa colpa primordiale è avvenuta diciamo così nella zona marginale quindi non al centro non nel dio quello di cui parlavamo prima quindi questo padre che per certi versi resta intangibile da ogni colpa ma ai suoi margini i valentiniani creavano un sistema di 30 eoni emanati uno dopo l'altro l'ultimo di questi 30 che ha un nome significativo perché poi è interessante come attorno a tutto questo questo sistema con sistema che si propone come un sistema filosofico però allo stesso tempo si racconta come un sistema mitologico e quindi ci sono una serie di nomi mitologici l'ultimeone dicevamo si chiama con un nome significativo sofia cioè la sapienza la sapienza di dio la sapienza di dio pecca o comunque ha una colpa e qual è la colpa della sapienza voler troppo conoscere voler conoscere quel padre inconoscibile e in questa colpa la conoscenza c'entra sempre nella colpa la conoscenza è sempre questo binomio conoscenza ignoranza in fondo nell'ognosticismo perché è un peccato di troppa conoscenza che diventa peccato di ignoranza perché non può conoscere quel padre che è inconoscibile e c'è sempre questo passaggio che per noi è molto complesso per noi moderni perché mescola questo aspetto della conoscenza un aspetto che è ontologico cioè che della sostanza e cioè questa sostanza divina si frantuma si fuoriesce da questo ero ma da questa da questo dio e fuoriuscendo da questo dio cade nel cosmo e il problema come dicevo prima della conoscenza di tutta questa di questo sistema così complesso questa teologia così complessa e che non tutti possono conoscerla chi la può conoscere chi può conoscere questi eventi e chi può conoscere questo padre cioè il vero dio solo chi è gnostico cioè una parte dell'umanità la parte che è interessata da questa scintilla divina che possiede in sé questa scintilla divina non tutti gli uomini c'è un'idea sostanzialmente di predestinazione cioè molto elitaria molto elitaria assolutamente molto elitaria per esempio i valentiniani dividono l'umanità in tre parti una parte che ha la scintilla divina quindi possiamo usare un termine propriamente cristiano per capirci che è consustanziale con dio cioè io gnostico l'ognostico ha in sé questa questo pezzettino di dio che lo rende simile a dio uguale anzi non siete uguali lo rende dio poi ci sono gli uomini creati dal demiurgo perché questo povero demiurgo che è convinto di essere dio infatti l'ha detto nella genesi no io sono l'unico dio ma ha detto una falsità secondo gli uomini a questo punto di vista perché lui l'ha detto perché ci crede perché non sa che quel dio superiore a lui è inconoscibile pure per lui e quindi lui crea e crea una categoria di uomini in cui mette l'anima appunto quelli che sono uomini psichici cioè provvisti di anima e infine esiste una terza categoria di uomini gli uomini ilici cioè corporei totalmente destinati a perdersi diciamo nel piano poi scatologico e soteriologico questi uomini quindi tre categorie una categoria che si salva malgrado tutto che so perché è gnostica che quindi si salva attraverso l'agnosi cioè attraverso il risveglio di questa scintilla divina l'agnostico una volta che viene a sapere la sua origine divina e a liberarla anche tramite un processo rituale non solo perché non è la sola agnosi c'è un bel testo appunto riportato da clemente alessandrino ma che è un testo agnostico che lui cita e che quindi ci ha conservato che dice che la salvezza avviene attraverso l'agnosi e il battesimo allo stesso tempo e poi ci sono questi psichici che si salvano per le opere diciamo così usiamo un linguaggio paolino o agostiniano se vogliamo si salvano per le opere e quindi che pongono il problema etico e infine questi poveri ilici che sono destinati fossero pure le migliori persone del mondo a perdersi perché non hanno l'anima sostanzialmente sono esseri sprovvisti di anima e di scindire la legna ovviamente questo brevemente è il sunto di che cos'è l'ognosticismo spero di avere e non non c'è una sopra una sovrapposizione tra qui sembrerò un po materialista ma tra questa idea dell'umanità tripartita e le classi sociali non è insinuata sotto un po che fondo i poveri gli ignoranti che non hanno la possibilità di avere questa consapevolezza non rischiano di essere più ilici degli altri purtroppo questa potrebbe essere una lettura che potremmo definire post marxista per certi versi e questa coscienza non so fino a che punto ci fosse nel mondo antico questa coscienza sociale sicuramente gli ignostici vedevano se stessi come dei super cristiani perché si vedevano come cristiani ho detto prima che la maggior parte degli ignostici non non si definivano ignostici si definivano cristiani però erano dei super cristiani quindi quindi più che socialmente era un fatto religioso all'interno della grande chiesa cristiana c'erano alcuni che sapevano il trucco sapevano il segreto del dio vero del dio superiore e quindi erano ignostici tutti gli altri cristiani erano gli uomini psichici gli uomini quindi categoria religiosa gli uomini che si salvano facendo le buone opere e il resto dell'umanità era perduta quindi un una serie di livelli chiaramente poi questa stessa idea di umanità a più livelli evidentemente nel corso della storia può anche avere avuto degli sviluppi di tipo sociale no perché la cosa mi ha un po ricordato le caste hindù che hanno una funzione sia religiosa che che sociale però evidentemente questo no nel nell'ognosticismo allora ricapitolando no abbiamo detto cioè se ho capito bene l'ognosticismo è un movimento complesso che non si è mai definito come tale quindi molti storici hanno anche detto ma in realtà non è esistito è esistito diciamo un cristianesimo alternativo no invece però tu sei tra quelli che ritengono e sostengono che invece possiamo vedere nei vari movimenti ignostici delle invarianti possiamo ritracciare gli invarianti cioè alcuni alcune idee che sono costanti che si ripetono una di queste è il dualismo quindi l'idea che comunque esistono due principi non uno correggimi se sbaglio l'idea di un demiurgo cioè di un dio inferiore che poi sarebbe dio dell'antico testamento e invece l'idea di un dio superiore che sarebbe poi sostanzialmente quello che ha mandato gesù il problema di gesù si va a incastrare in questo complesso sistema perché gesù chi è nei sistemi ignostici e che ruolo ha anzitutto è il salvatore ma il salvatore di chi il salvatore degli ignostici cioè è colui che viene a portare questo messaggio di cui abbiamo parlato cioè il fatto che il dio superiore esiste nascosto di questi geli altissimi e quindi gesù è questo inviato divino ma nei sistemi ignostici nella maggior parte dicevo c'è una pluralità quindi poi bisognerebbe parlare uno per uno dei vari sistemi però ecco delle delle forme comuni alla fine le troviamo l'idea ricorrente di gesù e di un doppio gesù un gesù uomo e un gesù divino che hanno un percorso decisamente indipendente e si incontrano nella maggior parte dei testi ignostici in un momento particolare che è il momento del battesimo di gesù cioè il momento del battesimo di gesù la scena che è descritta anche nei vangeli canonici cioè di questa discesa dello spirito santo su gesù sotto forma di colomba dagli ignostici viene interpretata come l'unione del cristo quello che loro chiamano in alcuni testi viene chiamato il cristo dall'alto cioè questo essenza divina questo inviato divino che scende sul gesù uomo i testi ignostici spesso tornano su quell'espressione gesù era figlio di giuseppe di maria quindi il concetto di incarnazione come poi è stato sviluppato nella teologia cristiana sostanzialmente non c'è nell'unionisticismo ma c'è un concetto che possiamo definire adozionistico di unione tra un gesù uomo e un cristo dio ma unione che non è definitiva nel senso che avviene per un tempo che dal momento del battesimo sostanzialmente al momento della morte molti testi nostici hanno questo concetto cristo nel momento in cui gesù viene messo in croce vola via per poi tornare e questa è una ricorrenza molto frequente nei testi ignostici non tanto in un fenomeno di risurrezione che allo gnostico sostanzialmente interessa poco perché non è morto questo cristo dio sulla croce certo è morto gesù in un testo ignostico per esempio si dice che sulla croce è morto per sbaglio simone di cirene poveraccio che si è trovato lì hanno messo in croce lui quindi comunque ci sono delle variabili su quest'idea base ma l'idea base qual è che questo cristo divino questo inviato di dio salvatore degli ignostici poi viene viene appare agli apostoli per rivelare appunto questa ignosi segreta e magari neanche a tutti perché poi se noi noi abbiamo la fortuna di avere non da moltissimo tempo da circa 60 anni i testi degli ignostici perché sono stati trovati la maggior parte in egitto in in alcune giare anagammadi anagammadi esattamente località egiziana e quindi possiamo leggere questi testi e molti di questi testi alcuni di questi testi intanto sono intitolati vangelo di filippo e quindi vangelo di tommaso forse il più famoso e probabilmente il più antico e quindi alcuni di questi personaggi che sono apostoli vengono ritenuti i veri ignostici quindi all'interno diciamo dei dodici ci sono alcuni che sono veri ignostici altri che invece sono semplici cristiani e quindi filippo tommaso un ruolo molto importante ha nei testi ignostici la maddalena che viene considerata la vera ignostica e in qualche modo anche simbolicamente perché poi i piani di lettura di questi testi sono tanti simbolicamente l'anima umana quest'anima umana questo spirito questa scintilla divina che deve essere salvata e quindi femminile sempre che deve essere salvata che viene rappresentata in maria maddalena e quindi questo gesù che appare alla maddalena filippo ad alcuni degli apostoli appare dopo la presunta diciamo così resurrezione per svelare l'agnosi segreta in tutto questo è interessante come un ruolo anche giuda c'è un testo ignostico che appunto sentito l'avangelo di giuda che non è stato trovato a naggammati anche se alcuni hanno ipotizzato che fosse uno dei codici trafugati perché i codici che noi abbiamo di naggammati non sono tutti perché è stato un riprovamento fortunoso che poi è passato tramite i canali della vendita antiguaria quindi chiaramente è parziale fatto sta che questo vangelo di giuda era un codice che è rimasto chiuso in una cassaforte svizzera per circa vent'anni quindi non si sa esattamente la provenienza il cosiddetto codice ciacos dal proprietario di questo codice fin quando poi fu pubblicato con una operazione anche giornalistica abbastanza discutibile perché come spesso avviene c'è un po di sensazionalismo attorno all'ognosticismo e fu pubblicato e in questo vangelo di giuda giuda un ruolo fondamentale cioè quello di far venire fuori la verità cioè il tradimento di giuda non è diciamo un fatto negativo nel vangelo di giuda è un fatto positivo per venire fuori la verità perché gesù questo gesù dall'alto questo giudizio vero idea molto sfruttata nella letteratura nel cinema da questa tra l'altro assolutamente assolutamente un'idea che poi insomma ha dato dan brown ha attinto a piene mani anche scorsese sì assolutamente in queste in questo tipo di di letteratura esistono anche dei testi gnostici diciamo così moderni dei romanzi gnostici moderni che hanno ripreso sarà sarà mago insomma ci sono vari assolutamente quindi ovviamente questa letteratura è una letteratura assolutamente di secondo piano nel senso che non ha nulla a che vedere con l'ognosticismo antico se non nell'imitazione che si fa delle tematiche ma è un'imitazione diretta o indiretta cioè secondo te sono idee che tornano di suo perché il sistema cristiano un po ha il germe dell'gnosticismo dentro oppure una diciamo una narrazione parallela che si è mantenuta nel tempo perché questa è una delle cose più interessanti del tuo libro di cui adesso ci farei vedere anche una copia e è proprio questo questa idea del fatto sia esatto prigioniere del cosmo e è proprio l'idea che l'ognosticismo in fondo è a un aspetto permanente cioè vediamo dei movimenti che apparentemente disconnessi tra di loro ma che invece hanno una linea di continuità nel tempo cioè ha una storia questo gnosticismo cioè nei primi secoli in qualche modo arriva fino a noi non so se ci puoi dare in sintesi qualche idea su questo punto questa è la domanda delle domande ed è anche la più complessa nella storia dell'ognosticismo ci sono stati tanti che si sono occupati di questa questione cercando di spiegare che l'ognosticismo è una categoria dello spirito c'è stato un grande filosofo per esempio lo jonas che ha parlato di questo gnosticismo che va al di là del fatto storico come categoria di pensiero umano io faccio lo storico e quindi cerco sempre di agganciarmi ai fatti alle fonti alle idee che spesso circolano le idee circolano attraverso i testi e attraverso le persone attraverso i testi quando i testi ce li abbiamo le possiamo riconoscere attraverso le persone diventa sempre un po più complicato ora l'ognosticismo come fenomeno classico è un fenomeno che inizia nel secondo secolo dopo cristo forse secondo alcuni nel primo secolo dopo cristo se qualche cenno nel nuovo testamento in san paolo negli atti degli apostoli vuole essere riconosciuto come gnostico non dimentichiamo che nell'ottavo capitolo degli atti compare simon mago che poi tutti i testi successivi diranno padre dell'ognosticismo il primo fondatore dell'ognosticismo e sostanzialmente finisce nel quinto secolo l'ognosticismo quindi ha una parabola di circa 3 4 secoli e finisce l'erede come dicevo prima dell'ognosticismo e il manicheismo che invece dura molto di più ma queste queste sette questi gruppi di gnostici che sostanzialmente spariscono vengono sempre più marginalizzati e combattuti fino a sparire poi continueranno alcune di queste idee in fenomeni medievali il più famoso di tutti è il catarismo francese c'è Italia settentrionale qualcosa in Germania meridionale il catarismo è un movimento dualista in cui noi troviamo degli elementi che sembrano gnostici la grande domanda è se è arrivato dal manicheismo se noi come sappiamo tutti i testi per i quali noi conosciamo meglio il catarismo sono i famigerati testi dell'inquisizione dove spesso si usa il termine manicheo ma lo si usa probabilmente più come un termine generico per dire dualista eretico per indicare questa caratteristica del dualismo che nel maniche che nel catarismo è molto forte ma probabilmente anche non solo dal manicheismo ma anche da altri filoni filoni orientali noi sappiamo che in oriente l'impero bizantino ai margini tra armenia le zone limitrofe c'erano dei movimenti dualistici di tipo gnostico che a un certo punto emigrano verso verso occidente che quindi arrivano in Francia cosa succede nei secoli successivi sappiamo che fine fanno i catari insomma il bagno di sangue della crociata contro gli albicesi che che li sradicherà sostanzialmente almeno nelle loro strutture ecco il catarismo per esempio un fenomeno anche socialmente politicamente molto forte perché si lega alla piccola nobiltà feudale francese quindi ha un legame e quindi viene sradicato politicamente nel sangue ma chiaramente anche lì ci saranno idee e testi che sopravvivono e ai nostri giorni ora ai nostri giorni c'è una fioritura di chiese neognostiche cioè che si auto definiscono tali e che evidentemente sono fenomeni io definisco di archeologia religiosa cioè gente è un po come il neopaganesimo le forme di revival della religione celtica no sono tutte forme di religioni che nascono sostanzialmente dal nulla quindi che vengono fuori da persone che interessate a certi studi hanno pensato bene di rinnovare questo tipo di religione ma allo stesso tempo che esistano degli spunti forse anche criptognostici all'interno del cristianesimo che siano sopravvissuti degli spunti potrebbe anche essere il problema che è molto difficile riconoscerli proprio per questa natura che già era in antico sotterranea e che poi è diventata sempre più sotterranea dopo la sparizione dell'ognosticismo pensiamo per esempio agli spunti che si auto attribuiscono i massoni la massoneria stavo per dirtelo in relazione all'ermetismo altro fenomeno religioso molto interessante con certe forme di gnosi anche lì simile a quella dell'ognosticismo ermetismo che ha una storia lunghissima che ha un successo enorme nel rinascimento ad esempio l'ermetismo e che poi verrà ripreso nel settecento dalla massoneria anche quella è un fenomeno assolutamente nuovo non crediamo che tra l'altro si ricollega diciamo un po' al rinascimento del quattrocento insomma quando si riesce a tornare a contatto con i testi gresci insomma neoplatonici di provenienza greca insomma quando la massoneria dichiara un origine egiziana che ovviamente è artefatta artificiosa chiaramente però che dà l'idea di come alcuni spunti gnostici probabilmente sono arrivati in qualche modo anche fino all'età moderna hanno attraversato i secoli sono arrivate all'età moderna io ho trovato una delle diciamo delle parti più interessanti del tuo libro proprio gli ultimi capitoli in cui tu parli dell'gnosticismo dell'età contemporanea noi oltre la massoneria tu citi anche la teosofia e un altro personaggio diciamo abbastanza interessante rudolf steiner famoso anche per i suoi commenti ai vangeli ecco se ci dici due parole anche su questo ma come dicevo appunto ci sono tanti tanti personaggi in età l'ultimo secolo l'ultimo secolo e mezzo la teosofia è un fenomeno legato sostanzialmente a forme di occultismo a partire dalla fine dell'ottocento e da cui verranno fuori tante altre tendenze perché ad esempio io ora proprio mi sto occupando in questi giorni di approfondire Scientology Scientology ha una chiara radice dichiarata abbard il fondatore Scientology era un adepto di un gruppo legato ad Aleister Crowley che era un occultista inglese quindi c'è un legame diretto assolutamente con l'occultismo della teosofia quella di Madame Blavatsky per intenderci famosissima e la stessa cosa avviene per Steiner persino il il grande psicologo Jung ha dei legami abbastanza stretti con questo mondo e anche dichiarati nelle sue opere perché Jung parla anche di Gnosticismo in alcune sue opere lo stesso farà Steiner anche Steiner sviluppa queste idee teosofiche anche se poi Steiner si stacca dalla teosofia originale per creare una sua scuola e non dimentichiamoci che Steiner è anche quello del metodo didattico metodo didattico che si ricollega a questa idea di una conoscenza dell'importanza della conoscenza e per noi oggi forse scontato viene da citare anche la Montessori che ha avuto simpatia teosofica dall'altro assolutamente per noi oggi dire l'importanza della conoscenza in un mondo che sacrosante importanza della conoscenza attenzione in un mondo che vede la diffusione del sapere anzi la sovrabbondanza del sapere tramite internet eccetera diffusione del sapere con la scuola per tutti ma fino a 50 anni fa quest'idea di una conoscenza in fondo salvifica in senso sociale sicuramente io conosco e quindi posso posso emanciparmi anche da situazioni socialmente disagiate però salvifica anche se leggiamo Steiner in senso spirituale spirituale non come termine metaforico nel senso lo spirito come categoria dell'arte o categoria della letteratura ma lo spirito come categoria appunto della religione quindi il problema ecco questi fenomeni io per esempio ho citato la new age sono molto interessanti perché somigliano per certi versi all'ognosticismo antico se non nel merito ancor di più nel metodo nel senso che come dicevo l'ognosticismo antico era parassitario era nascosto tendeva a essere a nascondersi dietro le forme religiose esattamente come questi fenomeni di oggi questi fenomeni oggi si nascondono ancor di più perché perché viviamo in un mondo tutti sappiamo post religioso viene definito così dove le categorie del religioso sostanzialmente sono state sostituite per esempio dalle categorie della scienza chiaramente se io oggi ho un male non vado dallo stregone vado al medico credo fermamente nella scienza e non dimentichiamo che una citavo prima un gruppo una religione come quella di scientology esprime il religioso attraverso le categorie della scienza e persino della fantascienza ron abbard era un romanziere di fantascienza e qui mi ricollego anche una cosina che ho citato nel libro per esempio molti film di fantascientifici di oggi hanno stretti legami con idee gnostiche la serie di matrix ad esempio o altri questi film hanno un qualche legame con una conoscenza nascosta no matrix la famosa pillola rossa insomma la famosa pillola no pillola rossa è quella che mi dà la conoscenza mi svela il segreto come sta si potrebbe dire che una specie assomiglia a una specie di complottismo religioso assolutamente io dico sempre un po scherzando che il padre di tutti i complottismi l'ognosticismo in fondo l'idea del complottismo qual è del complottista e che c'è qualcosa che non ce la vogliono dire che ci viene tenuta segreta che c'è una verità sempre altra rispetto alla verità che tutti sanno che è la stessa idea dell'ognostico in fondo l'ognostico fonda la sua la sua dottrina su questo io so la verità la verità vera la so perché sono agnostico la scintilla divina quindi ontologicamente predisposto ad averla ma lo so perché qualcuno me l'ha rivelata questo salvatore che è arrivato questa dottrina che è arrivata fino a me hanno rivelato hanno risvegliato spesso nei testi gnostici troviamo queste categorie risveglio questa idea che in fondo io sono dormiente nella mia consapevolezza e quindi hanno risvegliato questa questa idea complottismo in fondo una cosa abbastanza simile anche se diciamo laica rispetto a questa idea religiosa senti se dovessi un po riassumere il tutto cioè il tuo lavoro di ricerca in poche battute cosa ci vorresti dire prima di lasciare spazio alle domande sì il mio lavoro di ricerca come dicevo e da tanti anni in corso anzitutto una cosa che io voglio sottolineare e che spesso da tanti studiosi lo gnosticismo è stato visto più come un fenomeno puramente filosofico che non come una religione nel senso che la domanda che sempre ci si è posti esistevano delle vere comunità di gnostici una chiesa diciamo un gruppo delle persone dei fedeli o esistevano solo delle idee che poi venivano espresse in dei testi io ritengo che gli gnostici esistessero cioè che fossero delle persone fisiche e su questo per esempio mi sono dedicato molto al problema della ritualità gnostica gli gnostici avevano dei riti e ci avevano un avere un vero e proprio sistema liturgico ovviamente funzionale all'idea di questa liberazione della scintilla divina ma non c'era solo l'agnosi come dicevo prima c'erano dei riti nel libro trattato un tema ecco forse nuovo nella storia degli studi dell'ognosticismo che peraltro è una storia sterminata perché gli studi sulla bibliografia sull'ognosticismo e e immane specialmente dopo la scoperta in aggammati c'è stata una fioritura studi enorme e ho trattato il problema molto complicato dell'arte gnostica perché se questi gnostici avevano dei gruppi forse producevano dell'arte e con l'arte gnostica ci è sconosciuta per quale motivo perché intanto questi gnostici probabilmente si si paludavano si 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 all'interno degli altri cristiani e poi perché forse allo stesso tempo siamo noi non in grado di riconoscere un'arte gnostica all'interno di un'arte genericamente cristiana io nel libro ho citato vari vari monumenti vari alcuni risultano problematici per esempio la cattedrale di aquileia il mosaico della cattedrale di aquileia ad alcuni è stato considerato gnostico però oppure per esempio il famoso ipogeo degli aureli proprio recentemente qualche anno fa il compianto mio professore fabrizio bisconti che è venuto a mancare giovane non molto tempo fa aveva reinterpretato completamente questo ipogeo degli aureli che monumento appunto cimiteriale catacombale romano in senso non gnostico ha delle pitture molto complesse e questo perché perché abbiamo sempre grossissime difficoltà io una certa sicurezza di un'interpretazione gnostica l'ho avuta in una villa romana che purtroppo noi conosciamo solo attraverso le fotografie perché poi è andata distrutta alcuni mosaici di questa villa romana che sono andati distrutti che si trova in inghilterra a frampton in cui sembrerebbe di riconoscere alcuni temi della mitologia greca perché gli gnostici reinterpretavano nei testi lo vediamo benissimo anche la mitologia greca in chiave gnostico ma accanto ad alcune scene musive che sembrerebbero appunto interpretabili in senso gnostico ecco questo discorso secondo me delle comunità e quindi di un'arte una liturgia e quindi di un'arte propriamente gnostico credo che sia il filone di studi oggi più ancora ricco di possibilità di approfondimenti di sorprese forse per il resto appunto come dicevo è un fenomeno studiatissimo su cui combattiamo per un riconoscimento perché la tendenza decostruzionistica come dicevo all'inizio oggi è molto forte soprattutto di matrice americana anglosassone americana in particolare per cui si ritiene l'ognosticismo non esiste inutile parlare di gnostici esistono tanti fenomeni esiste forme di cristianesimo alternativo e gli gnostici quindi si perdono in questa in questo mare ma è una specie di etichetta che abbiamo dato noi praticamente chiaramente il termine gnosticismo è un'etichetta che abbiamo dato come tutti gli ismi abbiamo inventati noi un termine che sale al 1600 il termine gnosticismo però il termine gnosticoi il termine greco è quello è antico gnosticismo è antico allora io darei un po' di spazio a queste domande allora c'è Andrea Cottarelli che diceva da persona che ha studiato seppure in maniera generale la gnosi credo sia necessario spiegare i concetti di eoni e pleroma sì le ho un po accennati prima nell'agnosi valentiniana in particolare si parla di questo pleroma pleroma è un termine neotestamentario un termine greco vuol dire la pienezza di dio ma per gli gnostici questa pienezza per i valentiniani in particolare i valentiniani sono un gruppo tra i più importanti dei gruppi gnostici fondati da un presbitero di alessandria d'egitto alessandria d'egitto è una delle fonti principali dell'ognosticismo perché ne abbiamo parecchi è una delle fonti principali della cultura occidentale comunque c'è tutto assolutamente assolutamente ma l'ognosticismo trova in quell'area tantissimi tantissimi personaggi non abbiamo basilide abbiamo tantissimi valentino fonda questo gruppo dei valentiniani che poi si diffonde tantissimo nell'impero romano e il pleroma questo termine paolino viene ripreso per indicare questa unità nella molteplicità di dio di questo dio che è formato da 30 eoni ora il termine eone è un termine che indica una fase del tempo ma gli eoni valentiniani sono emanazioni e quindi eh tra l'altro eh sono emanazioni che avvengono sempre a coppie c'è anche questa idea nel mondo gnostico che ricorre molto spesso della coppia divina maschio femmina ma maschio femmina che si unisce in un unico maschio femmina quindi una sorta di androgino primordiale e queste coppie di eoni che vengono emanate a due a due formano l'intero pleroma fino al 30 totale l'ultima l'ultimo eone della coppia la parte femmina della coppia che è sofia genera ecco la colpa di cui parlavamo prima genera da sola cioè genera senza la controparte maschile e quindi una generazione diciamo così diremmo noi oggi geneticamente imperfetta per usare un termine quindi con la metà dei geni e questa questo tipo di generazione di sofia esce dal pleroma i valentiniani parlano di questo pleroma come un qualcosa parlano e raffigurano anche questo pleroma come un qualcosa di chiuso chiuso all'esterno da oros oros è il limite cioè una sorta di barriera che deve tenere dentro e deve tenere fuori che chiaramente non si può entrare nel divino e non si potrebbe nemmeno uscire se non fosse che appunto sofia esce si duplica nel mondo valentiniano quindi abbiamo due sofia la sofia superiore perché non possiamo cacciare qualcosa al divino il divino deve essere perfetto e quindi sofia superiore resta dentro ma la sofia inferiore finisce fuori perché allo stesso tempo è colpevole e quindi non può stare nel divino quindi un'idea diciamo razionalmente molto difficile da spiegare perché sofia è una e bina diciamo così e quindi il pleroma è perfetto e allo stesso tempo imperfetto innocente impassibile ma allo stesso tempo colpevole e soggetto ad una passione a questa passione di sofia che poi darà origine a questa sofia inferiore che darà origine al demiurgo darà origine al cosmo darà origine all'uomo quindi tutto un processo che dal piano teologico si sposta su quello cosmologico massimo chiede come era possibile capire se si possedeva quella scintilla come si attribuivano il possesso e perché quella o ce l'hai o non ce l'hai quindi chiaramente è un fatto di come dicevo di predestinazione di quindi non c'è un non c'era una un'interrogazione non c'era una forma chiaramente l'ognostico a un certo punto sa di averla è un processo strano sadia nel momento in cui sa di averla ce l'ha perché sennò non saprebbe di averla quindi sostanzialmente i due piani della conoscenza e della sostanza si uniscono nell'ognosticismo si mescolano gli gnostici volutamente li confondono se viceversa tu non sai di averla attenzione non tu potresti anche non sapere ma poi si risveglia prima non lo sai poi lo saprai ma se tu mai lo saprai e perché non ce l'hai e non lo potrai mai sapere anche se vengo e te lo spiego non lo potrai mai sapere perché non sei gnostico non hai la scintilla quindi se non sei gnostico non ce l'hai questo allora tiziana chiede il dio dello gnostico è separato dalla creazione che è stata demandata al demiurgo avere a che fare con la materia vuol dire contaminarsi è da qui che nasce la colpa e al desiderio di conosco dal desiderio di conoscere sono tante domande sono tante domande e sono anche abbastanza complicate su questo ovviamente nelle varie forme di gnosticismo abbiamo varie declinazioni varie risposte a questa domanda ci sono forme di gnosticismo più panteista diciamo così in cui dio e il cosmo tendono in qualche modo identificarsi in fondo alla base dell'ognosticismo c'è un'idea panteista e cioè dio che è presente nel cosmo perché presente con la parte che la scintilla divina avere a che fare con la materia vuol dire contaminarsi assolutamente sì assolutamente sì qua c'è l'idea chiaramente platonica di una netta distinzione ma che sappiamo bene come nel cristianesimo è stata fatta propria questa distinzione tra parte spirituale e parte corporea che non appartiene alla radice giudaica semitica del cristianesimo che invece vede un'unità sostanziale di anima e corpo diciamo così usiamo dei termini anche impropri perché anima e corpo sono termini della nostra tradizione greca nel mondo giudaico non hanno molto senso mondo giudaico si parla più di soffio vitale per certi versi che non di anima che può avere una sua vita indipendente ma nella tradizione platonica e poi in quella gnostica l'anima si contamina nel l'anima o la scintilla divina nel mondo gnostico a talvolta si distinguono i due livelli anima scintilla talvolta invece si mescolano e sono la stessa cosa ma sicuramente si contamina la c'è un certo anticosmismo non totale in alcuni gruppi gnostici è più forte sicuramente è fortissimo nel manicheismo dove la materia viene condannata in maniera netta nell'ognosticismo l'anticosmismo talvolta è abbastanza mitigato però sostanzialmente non c'è salvezza per il cosmo il cosmo è solo un luogo di permanenza un luogo in cui si realizza questo grande dramma dell'umanità però la il corpo resta sempre siamo il termine platonico una prigione una tomba ma gli gnostici per esempio usano molto spesso il termine la metafora del vestito io mi vesto di questo corpo che poi una metafora già paulina per certi versi ma io mi vesto di questo corpo corpo e quindi mi devo svestire ecco abbiamo abbiamo detto prima la metafora del risveglio anche questa dello svestirsi viene molto spesso usata in testi gnostici perché perché la materia mi contamina io la devo abbandonare per tornare nella mia origine cioè nel pleroma e quindi sicuramente c'è questo desiderio di conoscenza l'ognostico ce l'ha in forma propria questo questa ansia di conoscenza che si contrappone invece all'ignoranza l'ignoranza è il più grande di tutti i mali per gli gnostici e il male per eccellenza ecco il vero peccato originario per gli gnostici e l'ignoranza in questo senso per esempio non ne abbiamo parlato ma alcuni testi molti testi gnostici reinterpretano i capitoli 2 3 della genesi ribaltandoli adamo ed eva hanno fatto benissimo a fare quello che hanno fatto perché perché era un'ansia di conoscenza la loro e quindi il serpente abbiamo per esempio un gruppo di gnostici che si vengono chiamati in a seni o o fiti cioè gli adoratori del serpente il serpente della genesi è un personaggio un po come giusto positivo abbiamo un altro gruppo di gnostici che si chiamano i cainiti ad esempio ecco spesso l'antico testamento viene ribaltato dagli gnostici tutto ciò che per noi è peccato per l'ognostico invece è la sacrosanta ribellione al demiurgo e c'è non ad arrivare a forme estreme estreme però non di tutti gli gnostici di una minoranza di gnostici in cui bisogna peccare quindi forme di ribellismo chiamiamole così di forme anche di immoralità voluta perché peccando io mi ribello al demiurgo perché in fondo la legge perché il dio è il dio cattivo quello il dio cattivo quindi se mi ribello faccio bene insomma faccio bene allora gianfranco chiarella va sul tecnico chi è l'arconte abrasax allora intanto i termini il termine arconte non lo abbiamo introdotto abbiamo parlato di eoni in alcuni testi gnostici questi eoni vengono ancora più personalizzati si usa il termine arconti arconti in greco vuol dire governatori e quindi partendo da dal testo paolino no quando si parla dei principati dei governatori di questo mondo gli gnostici reinterpretano dicendo chi è che governa il mondo è il demiurgo e spesso questo demiurgo è accompagnato che è il capo di una coorte di arconti i nomi dicevamo prima nei vari nelle varie mitologie gnostiche si alternano in molti testi il capo di questi arconti il demiurgo si chiama ialdabaot che è una un po una sorta di crasi di sabba 8 no cioè il signore degli eserciti spesso si utilizzano termini anche vetero testamentari per introdurli però e reinterpretarli nel sistema basilidiano che quello forse più molteplice perché se per i valentiniani gli eoni erano 30 i basilidiani per in fondo il problema qual è è sempre quello di non toccare il dio superiore e allora questo dio superiore lo devo rendere sempre più trascendente e aumento le emanazioni basilidiani parlano di cieli e dicono che i cieli sono 365 quindi 365 cieli quindi sempre più livelli in cima a cui c'è questo dio superiore inconoscibile chi è abbasax in qualche testo abraxas viene chiamato chi è abbasax abbasax e appunto questo demiurgo alcuni hanno identificato abbasax con una raffigurazione che compare in alcuni amuleti io ho scritto alcune cose su sta roba ma è molto complicato anche qui capire se in effetti è così su questi amuleti che erano frequentissimi nel mondo antico e venivano usati da tutti compreso i cristiani il povero sant'agostino aveva voglia a dirgliene di tutti i colori non li usate perché sono ma insomma mondo antico era un mondo con una molto superstizioso molto superstizioso perché c'era un'atmosfera sovrappopolata da demoni nel mondo greco nel mondo egiziano nel mondo giudaico nel mondo cristiano e quindi di questi da questi demoni ci dovevamo difendere in qualche modo ci voleva un amuleto per ogni demone perché ogni demone aveva il suo. Quindi potremmo domandarci ma siamo poi cambiati così tanto? Ma appunto appunto l'uomo cambia e non cambia l'uomo cambia e non cambia la profilassi contro il male è sempre sostanziale ancora oggi e ancora oggi insomma pare che i maghi siano la prima azienda del paese come fatturato quindi in mondo antico questi amuleti che venivano indossati per proteggersi c'era una serie comunissima forse la più diffusa di tutte perché ne abbiamo tantissimi pezzi con questa divinità un po' strana perché aveva il corpo umano e indossava anche una corazza quindi tipo un militare ma la testa era di gallo e le gambe erano due serpenti ecco questa strana divinità alcuni l'hanno identificata con abrasax cioè il dio dei basilidiani degli gnostici basilidiani noi non sappiamo se in effetti sia abrasax non abbiamo la certezza ci sono varie vari riferimenti tra l'altro queste gemme pur essendo piccoline erano gemme originariamente erano gemme quindi in pietra dura e a un certo punto poi soprattutto già nel mondo bizantino si vanno sviluppando anche in metallo e quindi in metallo hanno anche figure più complesse perché il metallo si può lavorare evidentemente a stampo mentre la gemma va incisa e in queste gemme c'erano anche stranamente iscrizioni piccoline ma c'era tra le tante iscrizioni compare il nome abrasax ma ne comparano compaiono tanti altri per esempio compare un altro nome iao e chi è iao secondo qualche studioso dovremmo fare riferimento a una sorta di storpiatura del nome di dio il nome ebraico di yahweh quindi iao sarebbe una grecizia grecizzazione storpiata del nome di dio molti ritengono che abrasax sia questo gallo anguipede che compare in queste gemme insomma gianfranco dovrebbe essere soddisfatto allora c'è un'altra domanda molto tecnica di vincenzo di maso che dice ma gli illici passano attraverso la porta degli uomini dopo il decesso cosa succede dopo e dopo sostanzialmente il mondo e il cosmo finisce e nel finire gli illici vanno a finire nel calderone con tutto il resto c'è questa conflagrazione universale che distrugge tutto distrugge gli illici e gli illici come dice il termine il termine iule in greco è la materia gli illici sono fatti di pura materia la materia va distrutta e quindi gli illici non esistono distrutti insieme col resto poveretti allora roberto bolognese chiede il vangelo di giuda è una rivelazione gnostica il vangelo di giuda come dicevo prima è un testo gnostico che è stato pubblicato da qualche decennio dopo essere stato chiuso in cassaforte per vent'anni in cui giuda riceve il segreto dell'agnosi da gesù giuda riceve una missione che quella di tradire gesù e quindi è una missione gnostica giuda è il vero gnostico che nel tradire gesù permette la salvezza perché permette che questo cristo possa portare l'agnosi a tutti quindi è un vangelo gnostico assolutamente allora qui c'è una domanda interessante cioè il rapporto tra l'agnosticismo e l'islam c'è una certa influenza sull'islam da parte dell'agnosticismo a quanto io so sì e mi sembra che tu l'affronti questo tema del libro sì in un capitolo del libro ho accennato a forme dignosi islamica noi sappiamo che l'islam storicamente nasce su un sostrato religioso che è il sostrato di una forte religiosità di un usiamo il termine nel senso storico religioso un paganesimo pre islamico un politeismo pre islamico con forti influssi sia dal mondo giudaico sia da forme di cristianesimo marginale e probabilmente attraverso questi canali qualche idea gnostica è arrivata anche nell'islam in particolare sappiamo che l'islam esattamente come il cristianesimo non è un fenomeno monolitico ma è un fenomeno che ha è una religione che ha tante suddivisioni non tanto nell'islam maggioritario che è quello come tutti sappiamo sunnita quanto nelle forme minoritarie dell'islam in alcune forme di sciismo e in alcune forme di sufismo possono essere riconosciute delle radici delle idee gnostiche esistono anche dei gruppi estremamente marginali dei piccole sette che stanno tra tra l'islam e altro quindi diciamo così ai margini esterni dell'islam che possono essere sicuramente definite come un'agnosi islamica però scusa se rilancio la domanda ma non potrebbe anche essere che l'islam stesso ha subito delle influenze da parte dell'agnosticismo cristiano come islam nel suo nella sua interezza io non credo cioè nella forma diciamo così ortodossa dell'islam nel senso che l'islam è una rilettura della tradizione biblica perché questo è l'islam l'islam si propone sicuramente alla base dell'islam per esempio c'è un'idea che noi troviamo alla base del manicheismo ecco infatti mani come mani si proponeva diceva di essere il sigillo dei profeti mani si autodefiniva il paracleto quello spirito Gesù dice vi manderò il paracleto e dice mani se mua eccomi qua sono il paracleto e sono il sigillo dei profeti anche maometto si propone come sigillo dei profeti dichiarandosi nella linea cioè maometto non cancella tant'è vero che il concetto tra l'altro mi pare che si basa su questo l'idea che Gesù parli di maometto nel corano c'è il concetto di religioni del libro che inizia con abramo siamo figli di abramo tutti siamo figli di abramo solo che i veri figli di abramo i veri eredi di figli di abramo siamo noi musulmani quindi maometto dichiara questo quindi si dichiara il sigillo dei profeti in questo lui recupera tutta la tradizione da abramo a mose giù giù Gesù fino a lui e questa è un'idea che è alla base anche del manicheismo però poi sostanzialmente l'islam nella sua essenza più ortodossa non credo che possa essere considerata agnostica ma in alcuni filoni come dicevo non del tutto secondario perché per esempio all'interno dello sciismo in certe forme di ismailismo eccetera ci sono idee abbastanza agnostiche c'è adriano virgili che salutiamo ciao e ci ci riporta l'ermetismo e ci ricorda che maglio simonetti aveva scritto un bellissimo saggio sull'ermetismo cristiano che però è difficile da ritrovare purtroppo i buoni libri finiscono fuori catalogo spesso maglio simonetti ha scritto tanto il compiantissimo studioso grandissimo studioso del cristianesimo antico e anche dell'ognosticismo e oltre che il libro sull'ermetismo cristiano e noi per esempio dobbiamo dire parlando delle fonti abbiamo parlato di naggammati non esiste un'edizione italiana di naggammati proprio con adriano avremmo una mezza idea se riusciamo di fare venire qualcosa esiste la traduzione completa in inglese in francese di naggammati ma non in italiano in italiano c'erano tante cose ma non c'è un'edizione globale c'è una bellissima antologia che fu curata proprio da maglio simonetti che si intitola testi gnostici in greco in latino se non ricordo male il titolo nella fondazione lorenzo valla che è però solo un'antologia commentata però con la grande profondità e sapienza di maglio simonetti anche quello è un testo interessante come quello sull'ermetismo cristiano assolutamente cristiano è un fenomeno gnostico che anche maglio simonetti ha studiato giornata blu suggerisce un interessante collegamento c'è una relazione tra l'antisemitismo e l'ognosticismo io questa diciamo attacco all'antico testamento quindi al libro dio di israel ho un libro che dovrei finire di pubblicare perché era la mia tesi del secondo dottorato che non ho mai ancora pubblicato che trattava proprio di questo tema al netto del fatto che io preferisco non usare il termine antisemitismo che il termine antisemitismo è un termine culturalmente profondamente condizionato il termine antisemitismo nasce alla fine dell'ottocento viene coniato alla fine dell'ottocento insomma si comincia a usare dall'affaire dreyfus in poi per intenderci e poi ovviamente nel novecento con i tristi esiti che sappiamo tutti preferisco usare il termine antigiudaismo che è meno culturalmente condizionato però ci capiamo in questo libro che io non ho pubblicato non so se mai pubblicherò se avrò il tempo di farlo io parlo proprio di questo la radice dell'antigiudaismo all'interno dell'ognosticismo l'idea la contrapposizione non abbiamo parlato di marcione ma avremmo dovuto parlarne c'è una vecchia che rel tra gli studiosi se marcione può essere considerato agnostico io ritengo di sì per certi versi cioè tra tra le fonti almeno dell'ognosticismo marcione anche lui tende a distinguere il dio buono dal dio giusto quindi a duplicare la figura di dio e quindi a duplicare il dio del nuovo testamento da quello dell'antico testamento chiaramente l'antico testamento lo sappiamo ancora oggi presenta delle contraddizioni col nuovo che potrebbero facilmente essere sanate dicendo che sono 22 divinità diverse è chiaro e marcione lo già lo faceva ma marcione sanava anche le contraddizioni interne al nuovo testamento che c'erano ci sono praticamente ripulendo lo cosiddetto vangelo di marcione è una forma dove lui espungeva tutte le parti insomma che non collimavano con l'idea base ora a partire da marcione e venendo giù giù nel quest'idea che il dio dell'antico testamento non è il vero dio che la legge dell'antico testamento non è una vera legge che bisogna seguire chiaramente può avere dato adito a forme di antigiudaismo o a una esasperazione dell'antigiudaismo gli studiosi ovviamente parlano già di antigiudaismo nel nuovo testamento nel nuovo testamento ci sono dei momenti di contrapposizione che io però ritengo sostanzialmente interni ancora al mondo giudaico perché noi sappiamo che il cristianesimo delle origini vive come un fenomeno giudaico come una forma di eresia giudaica almeno per parecchi decenni almeno fino al 100 120 e forse anche dopo per certi versi certi gruppi cosiddetti giudeo cristiani il recupero che il cristianesimo fa dell'antico testamento noi sappiamo poi l'idea per esempio della cosiddetta lettura allegorica dell'antico testamento che permette di salvare questo signore degli eserciti che sembra così lontano dal dio buono gesù per usare il termine di marciane ecco gli gnostici non lo fanno perché gli gnostici sostanzialmente l'antico testamento o lo negano o lo reinterpretano lo capovolgo per esempio lo dicevo prima la genesi è uno dei testi preferiti dagli gnostici i primi capitoli della genesi in particolare la creazione ma in senso opposto a come lo si legge comunemente quindi che ci sia un approfondimento dell'antigiudaismo all'interno del gnosticismo come propone appunto questo ascoltatore penso che sia un'idea decisamente a cui bisogna dire di sì allora c'è davide che chiede dove può essere individuato l'origine dell'ognosticismo ora qui però vorrei ricollegarmi a una domanda che mi è venuta in mente prima che non ti ho fatto e colgo l'occasione di farla adesso perché la vedo collegata a questa che cosa la pensi nella testi di bar hertman che dice che praticamente l'ognosticismo è una specie di apocalittica fallita sull'origine dell'ognosticismo non abbiamo detto niente perché l'altra problematica enorme su cui gli studiosi da decenni e decenni stanno scrivendo e le ipotesi sull'origine dell'ognosticismo sono un'infinità l'ognosticismo come forma di cristianesimo alternativo o deviante o alternativo giusta o sbagliato che sia perché già i cristiani antichi insomma il primo che abbiamo è Ireneo forse già prima giustino aveva scritto un trattato antignostico ma non si è conservato ma Ireneo ce l'abbiamo e Ireneo dice voi vi richiamate agli apostoli ma anche noi ci richiamiamo agli apostoli e la tradizione nostra è quella giusta la vostra è quella sbagliata insomma alcuno trova traccia anche in san paolo lo dicevo prima alcuni dicono che già in san paolo c'è qualche cenno antignostico però questo anche questo è discusso il problema appunto gnosticismo all'interno del cristianesimo gnosticismo pre cristiano c'è un famosissimo saggio dello Yamauchi uno studioso credo nippo americano se non sbaglio che parla di pre cristian gnosticismo quindi un gnosticismo che esisteva già prima e alcuni dicono che l'ognosticismo in questo suo dualismo molto forte ha origine da altri dualismi ad esempio il dualismo iranico sono astro per intenderci qualcuno dice il dualismo che ci sarebbe nelle dottrine di Qumran forme di dualismo i due angeli due spiriti di cui in qualche testo di Qumran si parla e quindi è nata tutta una tendenza e qui arrivo anche a Herman che vede il l'ognosticismo come un fenomeno essenzialmente giudaico quindi nato all'interno del giudaismo c'è una famosa teoria del grant poi ripresa dal quispella da altri che dicono l'ognosticismo in fondo sarebbe un giudaismo di rivolta nato dopo la caduta del tempio la caduta del tempio è un trauma così forte perché il tempio per il mondo ebraico non è solo un luogo di preghiera ma è la casa di Dio quindi è Dio stesso è la shekinah di Dio come fa Dio come fa il tempio essere distrutto è vero che non era la prima volta che veniva distrutto però è una distruzione definitiva quella dei romani del 70 e quindi dicono questi studiosi l'ognosticismo sarebbe dicono beh se Dio non è Dio allora troviamoci un altro Dio in fondo Dio non è stato in grado di fermare i romani allora non è il vero Dio e quindi anche l'idea dell'apocalittica è una delle tante idee il problema che secondo me è quello accenno in questo libro anche in altre cose che ho scritto tutte queste teorie sono giuste tutte contemporaneamente io mi ricollego citavo prima i miei maestri la professoressa Gasparro il professore Bianchi ad un'origine sostanzialmente greca dell'ognosticismo nella filosofia greca una quindi platonica per certi versi anche orfico pitagorica dell'ognosticismo però chiaramente gli influssi del mondo giudaico gli influssi di certe forme di dualismo e poi il cristianesimo che ha fatto da croggiolo di tutte queste idee perché se queste idee non si fossero rivestite diciamo così di cristianesimo forse non sarebbero diventate l'ognosticismo come noi lo intendiamo sarebbero restate delle idee peregrine o avrebbero continuato a vivere nella veste orfica o platonica ecco idee di frammistione nel mondo orfico c'è l'idea della frammistione del divino perché Dioniso viene mangiato e impastato e poi insieme coi titani e viene creato l'uomo quindi un uomo in parte divino un'idea che troviamo sempre il cristianesimo che poi fa da collante di tutto questo sempre collegando un po' gnosticismo apocalittica Sara ti fa una domanda che mi era venuta in mente prima che a me c'è un collegamento tra gnosticismo e letteratura enochiana enochiana o enochica allora il problema che la letteratura enochica è di difficile collocazione all'interno di questo mondo antico la fase che viene definito del secondo tempio di questo giudaismo che va dal secondo primo avanti cristo fino al primo dopo cristo è sempre molto complicato chiaramente si ricollega forte al discorso di prima cioè dell'apocalittica la letteratura enochica si può inquadrare anche in senza apocalittico un aspetto che secondo me è stato l'apporto più forte sempre in questa multi origine dell'ognosticismo l'apporto più forte che la letteratura enochica ha dato allo sviluppo dell'ognosticismo è stato quello dell'angelologia e nel mondo enochico c'è un tutta una dottrina relativa agli angeli e ai nomi degli angeli è una tradizione angelica eccetera che gli ignostici riprendono probabilmente da quella origine anche se noi non sappiamo io dico il mondo antico noi lo viviamo sempre per frammenti prima citavamo nagammati noi fino a nagammati non avevamo niente se non i testi degli avversari dell'ognosticismo e qualche testo gnostico qualche due che si erano conservati i libri di io e la pistis sofia che ce l'avevamo già dall'ottocento per il resto non l'ognosticismo pensavamo che era tutta un'invenzione di re neo seo di polo epifanio di salamina questa gente strana che aveva parlato di stignosi fino a quando abbiamo letto di stignosi lo stesso potremmo dire il primo secolo dopo cristo quando noi abbiamo scoperto i testi a cumran lì ci si è aperta una prospettiva che prima era totalmente sconosciuta nel senso che noi avevamo l'unica prospettiva su quel periodo era sostanzialmente quella cristiana e qualche altra cosetta gli extracanonici qualche testo insomma ma non moltissimo cumran ci ha aperto un'altra prospettiva ma il problema è che noi ragioniamo su un puzzle di cui abbiamo il 10 per cento dei pezzi però qui sembra ci sia una certa somiglianza perché la letteratura enochica insiste molto su questa caduta degli angeli quindi tutta la mitologia della caduta degli esseri celesti che poi insomma presuppone tutta quella che sarà poi la demonologia insieme all'angenologia nella tradizione cristiana e questo sembra un po imparentarsi a questo peccato originale celeste questa caduta celeste che noi abbiamo nella nelle varie forme di gnosticismo ma come ho detto appunto l'angelologia sicuramente entra però manca una cosa nella letteratura enochica cioè manca la scintilla finale cioè ma anche il dualismo sostanzialmente la letteratura enochica non è dualista cioè c'è questa caduta degli angeli ma il principio originario è sempre uno e non c'è quest'idea del doppio dio questa del doppio dio la troviamo nel mondo gnostico un'altra origine dell'ognosticismo lo dicevano già gli gnostici antichi forse in una forma uso per comodità per capirci eretica ma non è corretto il termine del mondo ebraico cioè il mondo samaritano nel mondo samaritano abbiamo citato prima simon mago simon mago un samaritano menandro che il suo successore un samaritano e tanti altri padri dell'ognosticismo vengono da quel mondo che è un mondo noi sappiamo ebraico ma non giudaico il samaritanismo e quindi lì in quelle dottrine forse troviamo qualche spunto di origine dell'ognosticismo e poi ovviamente io prima dicevo il mondo greco uno dei padri diciamo della dello studio dell'ognosticismo moderno è il grande teologo fonarnak fonarnak prege una definizione lapidaria ma molto interessante l'ognosticismo non è altro che l'acuta ellenizzazione del cristianesimo ecco probabilmente forse non aveva tutti i torti in questa definizione e quindi che ne pensi di questa ipotesi di adriano che dice che i testimoni di geova in un certo senso sono gnostici in quanto distinguono gli unti dalle altre pecore il grosso degli uomini che invece tutti gli altri saranno annientati che ne pensi ma credo da quanto so dei testimoni di geova che loro sostanzialmente come fonte per quest'idea hanno solamente l'apocalisse e no la storia dei cento quindi sono più apocalittici quindi sono più apocalittici che noi sappiamo che testimoni geova che è un fenomeno religioso che ha una vita relativamente breve non credo che in senso proprio anche perché non è che basta solo questa idea per dire sono gnostici cioè il fatto che parte dell'umanità verrà distrutta e parte invece si salverà perché l'idea fondamentale di un dualismo mi pare che nei testimoni di geova non c'è mi pare per quello che conosco di questi altri anche secondo me poi del resto il dio della bibbia è sempre quello quindi e antonio dice se cerco di portare o spiegare la verità di fede attraverso la psiche o la scienza questa è un'operazione gnostica no non credo non credo nel senso che il rischio che spesso si corre che su cui volevo evitare anch'io di cadere quando scritto questo libro era quello dello pan del pan gnosticismo e chiaramente tutto può essere gnosticismo anche un prete che nella predica nell'omelia dice ma c'è dio dentro di te può essere leggibile no in senso gnostico perché ma perché questa è la cosa pericolosa perché era l'operazione che facevano gli gnostici no reinterpretare qualunque cosa qualunque testo che gli gnostici assolutamente il nuovo testamento non lo negavano lo usavano tantissimo avevano i loro testi ma i loro testi erano di secondo livello rispetto al nuovo testamento quindi tutto può essere letto in senso gnostico quindi anche la scienza la scienza se se so bene che ci sono derive antiscientifiche oggi no che dicono e anch'io ritengo che per certi versi la scienza certe forme può essere considerata quasi come una religione nel senso che da alcuni almeno si dice noi ho fede nella scienza si usa d'altro canto insomma il padre della scienza moderna isaac newton era un alchimista in origine no e forse un ermetista comunque aveva pratiche religiose anche molto particolari la pari abbia scritto più di teologia e di fisica sì sì assolutamente e con lui tanti live inizia altra gente insomma quindi chiaramente la scienza ha un legame anzi poi non voglio entrare nel merito del rapporto tra fede e scienza che apre un altro fronte ovviamente ha un legame con l'aspetto religioso ed essa stessa ha una forma anche religiosa fermo restando che poi la scienza è un frutto della ragione umana e come frutto della ragione umana è legittima ecco però non dobbiamo mescolare troppo le cose tant'è vero che zoda dice ma il cattolicesimo è possibile sia la prima forma di gnosi intesa come conoscenza delle cose divine appunto se questa gnosi noi la cioè l'allarghiamo troppo ci finisce dentro tutto certo ma lo fa già clemente alessandrino detto prima clemente alessandrino ovviamente per fare la polemica e chiaramente lo usa come strumento polemico dice ma che gnostici e gnostici siamo noi veri gnostici che noi sappiamo la verità non voi gnostici no lui scrive ad alessandria che era diciamo questo patria dell'ognosticismo quindi chiaramente in questo senso esiste un agnosi nel senso agnosi in greco vuol dire conoscenza quindi questo punto sì la scienza è un agnosi il cristianesimo qualunque conoscenza è agnosi perché appunto è tale ma quella agnosi in senso come ho detto proprio all'inizio rivelata e salvifica quel tipo di gnosi di un segreto nascosto un segreto nascosto che è un dio sconosciuta in più quella è la gnosi gnostica diciamo così tutte le altre possono essere gnosi chiaramente però è un tipo di gnosi diversa allora credo che siamo un po al limite quindi dovremmo tagliare anche se la conversazione è interessantissima e ci sono tantissime altre domande non so per esempio darei spazio un attimo anche a Dariella che dice insomma ci avviamo verso la conclusione mi sembra di capire che il termine gnosi come forma parassitaria sia l'aggancio del gnosticismo una serie infinita di tradizioni religiose come le emanazioni divine simili alla sefirot assolutamente tratto anche il tema cabalistico nel mio libro accennato anche alla questione delle sefirot dei palazzi divini eccetera come una forma una certa tendenza anche gnosi religiante in quel caso siamo in un agnosi isacluria eccetera un agnosi giudaica forme di gnosi giudaica cioè una conoscenza sempre una super conoscenza riservata a pochi eletti e che salva quindi anche l'idea delle sefirot eccetera può anche essere letta in chiave gnostica sì allora non ti leggo tutti i complimenti che ti stanno facendo per la tua preparazione chiarezza te li puoi leggere da solo perché devi scorrere lì però volevo sapere prima di chiudere ma che ne pensi di quelli cioè del di quelli che vedono nel vangelo di giovanni un influsso gnostico i primi che vedevano nel vangelo di giovanni un vangelo gnostico erano gli gnostici perché il vangelo di giovanni è il testo più citato e più usato dagli gnostici ho detto che il nuovo testamento loro a piene mani che utilizzava san paolo ma il vangelo di giovanni era usatissimo perché si presta molto a varie interpretazioni a varie letture lo sappiamo un vangelo complesso anche anche per noi complesso tant'è vero che come sappiamo è il vangelo insieme con l'apocalisse di giovanni insieme con l'apocalisse insieme con la lettera agli ebrei sono i testi che hanno avuto più difficoltà tra quelli canonici a entrare nel canone proprio perché erano soggetti a qualche interpretazione che giovanni chiunque fosse il giovanni che ha scritto il vangelo di giovanni sappiamo che insomma è molto la paternità del vangelo di giovanni chiunque fosse l'autore fosse un ognostico mi sembra molto improbabile nel senso che il vangelo di giovanni non è chiaramente ignostico se noi lo confrontiamo con gli altri vangeli il primo vangelo sicuramente ignostico è il vangelo di tommaso che è il vangelo meno ignostico tra quelli ignostici però chiaramente ignostico in cui l'idea di questa ignosi segreta anche se non tutti sono accorto con me so che molti contesteranno queste mie parole però vangelo di masco e ignostico e quello di giovanni non lo è abbastanza come dire per essere considerato ignostico sicuramente però interpretabile in questa direzione senti ciro vuole sapere una cosa i templari su hanno relazione lo gnosticismo sì o no io nel mio libro ho lasciato fuori templari e rosa croce che sono le mode più forti del momento non lo so non so a rispondere a questa domanda nel senso che i templari sono una cosa un po complicatella perché un po come i massoni vengono messi in relazione a un agnosi antica segreta eccetera però la chiarezza che questi templari nelle loro fonti fossero ignostici io non ce l'ho quindi per questo non l'ho voluto più no che sì più no che sì allora io direi a questo punto augusto se ci fai vedere il tuo libro perché chi vuole diciamo continuare approfondire queste cose che ci siamo detti oggi aspetta un attimo ti metto in prima linea in prima fila ecco così ecco il pigioniere del cosmo ecco questo libro che ti ha occupato quanto tempo ma allora come dicevo io studio l'ognosticismo da 25 anni e non è il primo libro che pubblico questo posso dire si vede questo è il punto di arrivo ecco di un processo che è durato tanto e grazie ad adriano che mi ha fatto appunto dal spunto editoriale ho cercato di fare una summa un po divulgativa quindi abbastanza scorrevole di quel poco che so dell'ognosticismo perché davvero abbiamo detto tanto qui ma vi assicuro che i testi ignostici hanno complessità spaventosa per cui non è facilissimo metterli insieme quindi è il punto di arrivo di un processo di studio molto lungo che forse non è finito non lo so anche se mi occupo di altre cose grazie augusto e io spero che tu possa essere diciamo d'ora in poi amico del canale quindi ci rivendiamo ancora magari per approfondire e magari questo stesso anche altri argomenti su cui insomma vedo che non ti manca la competenza quindi approfitto per salutare di nuovo tutti che ci avete seguito fino adesso e è un piacere sempre imparare cose nuove io sono il primo che impara interrogando allora bella a tutti da prof grazie ancora gusto e alla prossima a tutti ciao grazie buonasera grazie a tutti grazie a tutti